salve a tutti ragazzi io sono Devael e siamo qui su bellissimo Hearthstone che per ora solo una beta però che noi giochiamo grazie a dei miei amici ma grazie a delle mie conoscenze eh sì sono utili alle conoscenze e siamo su questo bellissimo gioco adesso siamo sulla campagna contro Milhouse ma quello dei Simpson e Bart dov'è pessima pessima dai andiamo avanti allora siamo sulla campagna questo gioco di carte praticamente è quasi come magic è simile a magic direi ah peccato vabbè che palle sto cazzo il mana vabbè ragazzi a me sta piacendo molto volevo dirti che anche noi gamers and co ci saremo al games week sei zitto che sto parlando io ci saremo anche noi al games week e cioè sarà una cosa veramente epica perché noi siamo di Milano faremo esplodere tutto ragazzi vabbè io uso te e attacchiamo oh due porca vabbè ragazzi questo gioco a me è piaciuto molto somiglia a magic sei zitto somiglia molto a magic è veramente faffanculo stronzo somiglia a io a me ha ricordato abbastanza magic non sono proprio un magic caro però ci ha giocato un pochino e a me ha ricordato questo a me magic basta io pesco due carte perché sono bullo basta e poi ti attacco e niente cioè è una beta spero che vi piaccia farò brevi gameplay e farò brevi gameplay e ne farò tipo però veramente piccoli purtroppo un gameplay che avevo in serbo di happy wills non sono riuscito a usarlo c'è esploso il computer esploso tutto e purtroppo non posso farvelo vedere perché sapete quando ci tenga ma purtroppo quando accadono queste cose da sclero e niente dovrò rifarlo da capo era venuto tutto non so che cazzo sia successo vabbè muorici tantissimo sono un pirla avrei dovuto usarla prima sono un pirla quanto sono stupido quanto ma me lo perito ma sono stupido sono un cane a sto gioco ecco bello me l'ha fatto secco non l'ho neanche potuto utilizzare vaffanculo dio santo mi viene già il nervoso e abbiamo appena cominciato la stessa città a palla di fuoco fai bu l'uomo ed sciacchi bici evochiamolo e attacchiamo s boom stay down bici o l'uomo 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 ditemi se vi piace questa serie questo brevissimo gameplay per oggi è terminato ci vediamo alla prossima puntata mi raccomando lasciate un commento per aiutarti a migliorare mi raccomando io mi raccomando lasciate un commento con mi raccomando lasciate un commento in cui ci dite che cosa vi piace e cosa non vi piace lasciate un mi piace e scrivete al canale e ditemi se questa serie vi piace e se continuo alla prossima ragà